Gli anni migliori devono ancora venire. Nella città di Manchester, con alle spalle una locomotiva a vapore del XIX secolo, quasi fosse una metafora, il premier britannico Boris Johnson racconta di un futuro luminoso a cui il paese è atteso. Un futuro subordinato alla Brexit, che dice deve avvenire rinegoziando l'accordo con Bruxelles, in particolare sul cosiddetto backstop. Se ci sbarazziamo del backstop nella sua interezza, dichiara, allora stiamo facendo molti progressi. Dovremmo ricordarci che lasciare l'Unione Europea è un'enorme opportunità economica per fare cose che non ci è stato permesso fare per decenni, per liberarci di qualche onere burocratico, per creare posti di lavoro, per far emergere la creatività e l'innovazione per cui il Regno Unito è famoso. Johnson, che ha incontrato i lavoratori del settore ferroviario, mantiene il discorso sul binario prestabilito. Il backstop, meccanismo inserito nell'intesa per evitare la creazione di un confine rigido tra Irlanda e Irlanda del Nord, non va bene. L'accordo, così com'è, non è sostenibile e va ridiscusso. In alternativa, non resta che la fuoriuscita dall'Unione Europea senza accordo il 31 ottobre. Michel Barnier, capo negoziatore dell'Unione su Brexit, ha ribadito che il backstop non è più negoziabile. L'ipotesi, ha aggiunto, è inaccettabile e non è contemplata nel mandato del Consiglio Europeo.